Nuova settimana e nuova impresa mortale. Sono in Berserker e quest'oggi il nostro personaggio che andremo a utilizzare è lui. Contro lui, quando lo trovo. Uno di quelli che ho battuto nell'ultimo periodo. Il generale Shao. L'aiutante di Omni-Man sarà Scorpion. L'aiutante di Shao sarà invece Kano, uno che ogni tanto qualche lavoro mercenario lo fa con lui. Ovviamente io Kano lo voglio come personaggio utilizzabile però. Se no spacco tutto. I due si sono dati appuntamento alla sala d'altè. Sarà un appuntamento elegante? Un appuntamento di lavoro? O si vogliono soltanto menare le mani? Senta Kano, io dopo mi dovrei anche sedere lì e dovrei anche mangiare. Se ci sputa per terra però è bella madonna. Se ci sputa per terra diciamo che dopo su tipo advisor, come si dice, la recensione si cala. Dopo Madame Boulevard, lì come ragazzi si chiama, sicuramente se la prende con me. Oh, generale. Generale. Si è rotto tre quarti, eh, generale. Ma proprio in questa giornata... Io direi giornata estiva perché giustamente questo cosa poi lo producerò in piena estate. Ma non ci vuole tanto che calta fuori proprio quando c'è il brutto tempo. Pensa, rifletti! Round 2, fight! Pensa, rifletti soprattutto sperando che non metta niente di nuovo di Omnimap perché mi devo guardare ancora la seconda stagione di Vinci. Ma prima devo guardarmi altre cose, porco schifo. Magari nel periodo in cui saltarà fuori questo titolo... Questo video, scusate. L'avrò già anche guardata. In parte che mi devo guardare pure lo special della tizia là, come cazzo, si chiama quella con la tutina rosa. Che non mi viene assolutamente il nome. Ahia. Porco 2. E va bene però, tu che vieni dalle fiamme dell'inferno mi fai ste figure. A Scorpion. Dacci tu, figa, dopo devo vedere se so carico il controller. No? E che dolore! Guarda che mi blocca tutto sto porco. Prendi il mio petto! Oggi non c'è neanche un po' di coscia. È domani il giorno delle gambe. Vabbè, cano, sei uno stronzo. Che vieni dall'Australia. È australiano quindi non è che me la sto prendendo con voi. Effettivamente. Mi può far già dalla tazza stita australiana. E vabbè, complimenti. Io boh. Tre volte de spam? Non lo so. Punte. Vabbè. Ciao. Tutti i nomi facili da dire. Porca miseria. Mamma mia. E vabbè, quello là che mi prende la tibia. Anzi. C'ho bello che c'ho il coltello attaccato. Vabbè, io sta mossa non la faccio più. Se mi capita ancora faccio posso a perdere. No. No. La fai prima tu, bastardo. Ecco. Mamma mia, la combo. No, il laser del... Pappero. No. Aia. Ma, 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 vai, vai, vai. Continuo, continuo, continuo. Che cazzo c'hai voi? Cazzo de martello de Thor. Maniaco che si deve vendicare perché l'altra volta l'ha battuto. Io lo so. Che tu sei un merdone così. No. Vincardo. Me ne scoglio. Però adesso io non ti vorrei dire brutte parole dietro. Ma sei proprio di un'intudità. Quest'oggi, figa. Hai bevuto un po' troppo di tè. Giustamente alla sala del tè. E proviamola così. Anche se la vedo dura. No. Ma la fan qui. Che cazzo fa? Ah, beh, l'ha fatta a blu. Mi ero cacazzo addosso che l'incontro sarebbe già fin lì. Invece no. Ma non temi a regenare Xiao. La tua tirannia finirà un giorno o l'altro. Magari in questo prossimo tentativo. pezzo è scrofa no perché iniziare col porca miseria vabbè scorpion cioè io dopo vado a vedere se ho spazio sul calendario quindi famo qualcuno mi stai fatendo anche in nervo certo in nervosire cazzo fa le fiamme cioè ma tutta la vita cyrax o tutta la vita porca come cazzo si chiama lo fighter e che botta signora lì seduta all'angolino del coso io la vedo un grande male secondo me sarebbe meglio se si sposta dopo faccia quel cazzo che vuole cazzo a me ne è che me frega tanto qui a me di quello che staffa lei si è prenotato quel posto qua giustamente è il suo da una vita che viene qua a bere te e non solo però se c'è di mettere le perne so cazzo certifortunata che non ci sono le interazioni ambientali perché se no ce l'avrei ammazzata sicuro cento per cento porca miseria ti faccio questo però e che cazzo nooo va vera la imparable eppure me la fa io non so i comment io non so i comment meno fammi la fatality tanto era l'ultimo tentativo purtroppo general shao ha ritenuto giusto di distruggirmi incredibilmente in tre round ma la prossima volta non andrà a finire così grazie